Siamo qui a presseggiare un'interno scolastico, che vedo i rossi, i rossi, i rossi, il momento gioioso. Poi diremo il momento che è la mia identità, la mia identità, il Comune, sono i centenni. Sono loro che hanno fatto questa maggiore del l'incendio, perché con la loro tutta riguarda la città. L'amministrazione da sua non potrebbe raggiungere i soggetti, se possono essere assunzati. apprezzamazione con le seduzioni scolastiche di cittadini, di giudici e anche, soprattutto, per esempio, per un mondo di vita che sia corretto, che sia rispettoso della vita ai tutti e soprattutto per vivere la vita ai tutti. Un poppile di oggi sia nagassa, il sentir yenです____lle, quella inognita musicale e il personebri il mondo che hanno vinto diayingo alla lSCOs la giuda e questo di sure, entusiaspare che dei pazzi al turma della musica, perché la musica no viene un trago che si sizes ma come diment communicazione e veio pensiero, sicuramente per intermediare un modo di futuro. Un auguro per la fine del nostro astro, siete andati a casa qui, che sicuramente sarebbero preparati anche nell'attività in corso dell'anno, e auguro a noi tutti di camminare insieme ancora per un po' con questo entusiasmo. Grazie a tutti e buona prossima, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.